Grazie professoressa Rosa Nicoletta Tomasone, grazie a lei e a tutti quelli che hanno creato la nobile accademia degli antichi sapori con l'ordine della zuppetta. La zuppetta è senza dubbio il mio piatto preferito, lo preparava sempre mia nonna che era di San Severo e io le chiedevo di farlo sempre, anche se lei lo preparava specialmente durante le feste, in certe occasioni. Lei mi accontentava abbastanza, non me lo faceva proprio sempre ma sapeva che lo amavo e mi è rimasto nel cuore, insomma è un piatto che io trovo paradisiaco, meraviglioso, buonissimo ed è un piatto povero poi, questo è il bello. Quindi viva la zuppetta, viva San Severo, questa che state facendo è veramente una cosa molto bella, è una cosa che riguarda le tradizioni, che riguarda la buona cucina e che riguarda l'amore per una terra, che è San Severo. Un bacio a tutti, grazie.